se questo è un uomo di primo levi venne a un tratto lo scioglimento la portiera fu aperta con fragore il buio eccheggiò di ordini stranieri e di quei barbarici latrati dei tedeschi quando comandano che sembrano dar venta una rabbia vecchia di secoli ci apparve una vasta banchina illuminata da riflettori poco oltre una fila di autocarri poi tutto tacque di nuovo qualcuno tradusse bisognava scendere coi bagagli e depositare questi lungo il treno in un momento la banchina fu brulicante di ombre ma avevamo paura di rompere quel silenzio tutti si affaccendavano intorno ai bagagli si cercavano si chiamavano l'un l'altro ma timidamente a mezza voce una decina di ss stavano in disparte aria indifferente piantati a gambe larghe a un certo momento penetrarono fra di noi e con voce sommessa con visi di pietra presero a interrogarci rapidamente uno per uno in cattivo italiano non interrogavano tutti solo qualcuno quanti anni sano o malato e in base alla risposta ci indicavano due diverse direzioni tutto era silenzioso come in un acquario e come in certe scene di sogni ci saremmo attesi qualcosa di più apocalittico sembravano semplici agenti d'ordine era sconcertante e disarmante qualcuno so chiedere dei bagagli risposero bagagli dopo qualche altro non voleva lasciare la moglie dissero dopo di nuovo insieme molte madri non volevano separarsi dai figli dissero bene bene stare con figlio sempre con la pacata sicurezza di chi non fa che il suo ufficio di ogni giorno ma renzo indugiò un istante di troppo a salutare francesca che era la sua fidanzata e allora con un solo colpo in pieno viso lo stesero a terra era il loro ufficio di ogni giorno in meno di undici minuti tutti noi uomini validi fumo radunati in gruppo quello che accadde degli altri delle donne dei bambini dei vecchi noi non lo potremmo stabilire allora né dopo la notte l'inghiotti puramente e semplicemente oggi però sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il rai sappiamo che nei campi rispettivamente di buona monovitz e birkenau non entrarono nel nostro convoglio che 96 uomini e 29 donne e che di tutti gli altri il numero di più di 500 non uno era vivo due giorni più tardi sappiamo anche che non sempre questo pur tenue principi di discriminazione inabili e inabili fu seguito e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni senza avvertimenti né istruzione nuovi arrivati entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio andavano in gas gli altri così morì emilia che aveva tre anni poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei emilia figlia dell'ingegner aldo levi di milano che era una bambina curiosa ambiziosa allegra e intelligente alla quale durante il viaggio nel vagone gremito il padre la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco in acqua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva consentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte scomparvero così in un istante a tradimento le nostre donne i nostri genitori i nostri figli quasi nessuno ebbe modo di salutarli li vedemmo un po di tempo come una massa oscura all'altra estremità della banchina poi non vedemmo più nulla emersero invece nella luce dei fanali due drappelli di strani individui camminavano inquadrati per tre con un curioso passo impacciato il capo spensolato in avanti e le braccia rigide in capo avevano un buffo berrettino ed erano vestiti di una lunga palandrana a righe che anche di notte e di lontano si indovinava sudicia e stracciata descrissero un ampio cerchio attorno a noi in modo non avvicinarci e in silenzio si diedero ad armeggiare coi nostri bagagli e a salire e scendere dai vagoni vuoti noi ci guardavamo senza parola tutto era incomprensibile e folle ma una cosa avevamo capito questa era la metamorfosi che ci attendeva domani anche noi saremo diventati così senza sapere come mi ritrovai coricato su di un autocarro con una trentina di altri l'autocarro partì nella notte a tutta velocità era coperto e non si poteva vedere fuori ma dalle scosse si capiva che la strada aveva molte curve e cunette eravamo senza scorta buttassi giù troppo tardi troppo tardi andiamo tutti giù d'altronde ci siamo presto accorti che non siamo senza scorta è una strana scorta è un soldato tedesco irto d'armi non lo vediamo perché è buio fitto ma ne sentiamo il contatto duro ogni volta che uno scossone del veicolo ci getta tutti in mucchio a destra o a sinistra accende una pila tascabile invece di gridare guai a voi anime brave ci domanda cortesemente ad uno ad uno in tedesco e in lingua franca se abbiamo danaro o d'orologi da scelergli tanto dopo non ci servono più non è un comando non è regolamento questo si vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro caronte la cosa suscita in noi collera e riso e uno strano sollievo